Conclusione di Giro d'Italia di ciclocross, Gioele Bertolini si impone ancora una volta a Roma in una giornata dal meteo particolarmente inclemente. Grazie a tutti per la cortese attenzione linea alla testa del Comissario regionale dell'Azio presso l'auditorio dell'Impodromo delle Cappanelle. Io saluto Renato Di Rocco, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana e gli altri amici presenti all'Impodromo. Adesso ci saranno gli italiani, tu gareggerai con gli Open o correrai con gli Under-23? Correrò con gli Elite, sarà una scelta un po' azzardata, però voglio provarci e spero di conquistare una maglia o comunque salire sul podio. Un terreno così pesante come quello che abbiamo trovato quest'oggi, che cosa ti dà in chiave mondiale? C'è ancora molto da crescere, però siamo lì davanti, stiamo combattendo in tutte le competizioni che sto facendo, quindi è solo da continuare così e crescere ancora. Grazie mille, complimenti.